Gli altri sono uniformi, sono tra i sessi e chiari, ho salute sul cuore, le proporzioni sono corrette, buone angolature, alcuni galletti dovrebbero essere più consolidati, proporzioni per il dottorazio e più di corretti, alcune buone dovrebbero essere molto lunghe, il movimento è buono, ma dovrebbero essere fortuato con più efficacità, vediamo il gruppo di ghiere di fretta, con un cartone, 15 minuti.